Io mi trovo costretta da lunedì a mettere altre due persone in cassa integrazione perché il mio incasso si aggira a 17 euro al giorno. Questa chiusura ci penalizza perché non stiamo lavorando. La gente alle 6 esce. Grazie a tutti. Libertà! Libertà! Sono molto contento di questo risultato. Vedo abbastanza gente in piazza. Potevamo essere di più ma va bene così. Facciamo queste prezulte e abbiamo la responsabilità di portare avanti quello che è il giusto, quello che sono le famiglie che abbiamo a nostro carico. Quindi è giusto scendere tutti in piazza.